C'è chi resta intrappolato nelle macerie della vita e chi, come voi qui a Carpi e nell'Emilia ferita dal terremoto del maggio 2012, con l'aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza. Papa Francesco è venuto nella città emiliana per portarla ad esempio di chi sta dalla parte di Gesù Risorto e non del sepolcro. È entrato nella grande piazza dei martiri della cittadina emiliana in Papa Mobile ed ha fatto alzare il Vescovo Francesco Cavina seduto accanto a lui per salutare le 50.000 persone venute per la celebrazione della messa. E nell'Omelia pronunciata sul palco allestito su sagrato della cattedrale dell'Assunta, gravemente danneggiata e riaperta solennemente domenica scorsa, il Pontefice ha chiesto ai carpigiani di essere testimoni di vita in questo mondo che ne è assetato, appesantito dalla tristezza. Commentando la pagina del Vangelo che narra il miracolo della risurrezione di Lazzaro, il Papa ha sottolineato che la commozione e il pianto di Gesù davanti alla tomba dell'amico ci sono d'esempio di come comportarci nel mistero della sofferenza. Non fuggirla perché fa parte della vita ma senza farsi imprigionare dal pessimismo. Si può stare dalla parte del sepolcro dell'angoscia per la morte oppure dalla parte di Gesù della speranza che vince il male. Possiamo restare da soli nei nostri piccoli sepolcri, peccati, torti subiti o fatti, lecandoci le piaghe, oppure invitare lì Gesù fidandoci di Lui, della risurrezione del cuore. Perché, ha concluso Francesco, Dio scioglie i nodi dei nostri problemi. In Gesù possiamo trovare una nuova stabilità. Con Lui la gioia abita il cuore e la speranza rinasce. Questo è il tempo per rimuovere la pietra del peccato che impedisce a Lui di entrare, dire di sì a Cristo che dice venite fuori, non abbiate paura. Prima della preghiera dell'Angelus il Papa ha ricordato il beato Odoardo Focherini e la venerabile Marianna Saltini, incoraggiando i laici ad essere protagonisti della vita delle comunità, in comunione coi sacerdoti. Al termine della celebrazione, Francesco ha benedetto quattro pietre di nuovi edifici diocesani, una chiesa, una struttura parrocchiale, una casa di spiritualità e la cittadella della carità per uomini soli e padri separati.